Nelle prime pagine preparo a una lettura distesa, tranquilla, continua, mentre non ci si deve fidare, il libro riserva delle sorprese. C'è un, direi, possiamo chiamarlo, un espediente letterario che lei adopera, cioè lei parla nel libro, oltre che di tanti scrittori, anche di se stesso. E dice, ogni romanzo ha uno stile nuovo, ed è una dichiarazione, direi, una dichiarazione di poetica. Che cos'è questo cambiare stile? Un piacere letterario o un rispecchiare il vento della letteratura? È il desiderio di non lasciarsi definire, di non restare prigioniero della convenzione letteraria che si sceglie, della chiave di scrittura, che volta per volta lo scrittore assume. È il tentativo di scrivere tutti i libri. Ho fatto una specie di catalogo di possibilità romanzesche. In questo catalogo ci sono le sue predilezioni letterarie? Ci sono dei desideri di lettura. Ho cercato di dare, come spinta allo scrivere, il romanzo che vorrei leggere, oppure che vorrebbe leggere il lettore, perché è sempre il lettore al centro. Pensavo che già nel titolo, se una notte d'inverno un viaggiatore, lei ammica un certo tipo di letteratura, il romanzo popolare, fa pensare all'attacco dei tre moschettieri, fa pensare anche al melodramma verdiano. Sì, il mio titolo vuole essere l'inizio di un romanzo popolare, di un romanzo tradizionale, quei romanzi che dicevano se un passeggero fosse passato per quella strada avrebbe visto… Dietro il canzale dei carmelitani. Sì, siccome tutto il libro è basato sulla nostalgia di una lettura di questo tipo, questo titolo già introduce in questo clima.